amici di quarta parete buonasera sono qui al teatro di documenti qui a via nicola zabaglia 42 anche qui in zona testaccio e questa volta sono in compagnia di ben tre signore perché lo spettacolo appunto che starà in scena da domani e dopo domani si intitola cuori selvaggio appunto è un concept composto da tre monologhi esattamente quindi creato da alessandra izzio buonasera alessandra poi eleonora manara buonasera e naturalmente c'è anche sarà ercoli buonasera che cura anche la regia tra l'altro naturalmente tutta colpa mia tutta colpa allora sarà scusa alessandra come nasce quest'idea di fare questo concept innanzitutto io penso che in questo momento storico sia necessario fare un po di denuncia lo so che facciamo forse uno spettacolo che stanno portando in scena tanti tanti attrici però io ho sentito veramente la necessità e insomma anche con le mie compagne di viaggio di parlare veramente delle donne in una maniera molto forte questa volta perché non si può soltanto giocare o soltanto lagnarsi bisogna fare delle denunce continue tutti i giorni qualcuno mi ha anche detto un po di tempo fa ma che bella cosa che fai ma di nuovo una cosa sulle donne dico di nuovo finché non smetteranno tutte queste cose che si sentono in giro non bisogna mai abbassare la guardia mai veramente mai quindi lì è nata l'idea e poi insomma ci siamo viste con Sara ne abbiamo parlato e quindi siamo avete unito le forze e le idee e le idee assolutamente sì esatto e tu sei la protagonista del terzo monologo giusto del monologo che dà poi al titolo a tutto lo spettacolo sì 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 che poi voglio dire sono degli spettacoli che viaggiano anche per conto loro però noi abbiamo appunto creato questa cosa debutta qui ai documenti adesso vediamo abbiamo un po di sorprese in giro in questo in questa pista dove appunto ci sei tu in scena sei una casalinga napoletana sono la figlia di una casalinga napoletana bene del dei quartieri alti sì perché poi si vedranno delle cose appunto in scena e quindi una figlia che vuole vorrebbe portare la mamma via da questo mostro che è il babbo però appunto combatte non sveliamo tanto combatte tanto con la mamma con i suoi fantasmi i suoi demoni interiori anche perché anche lei ne ha per far sì che insomma vadano via da quest'uomo da questo selvaggio e tu invece Sara sei protagonista di come lui mi vuole quindi anche qua una donna un po complicata potremmo dire o enormemente complicata come siamo un po tutte come diceva anche la mannoia no come lui mi vuole intanto l'idea è nata da queste riviste degli anni 50 che leggevano le nostre mamme dove c'era questa rubrica bellissima come lui mi vuole belle in 20 minuti belle in 10 minuti belle in 5 e la rubrica si chiamava proprio come lui mi vuole e in questo momento pensare a ricentrarsi mi sembra una necessità cioè perché dover sempre cercare di assecondare piacere cercare l'approvazione esterna in realtà un tonnello in cui cascono molte donne in realtà è appunto io offro una versione abbastanza comica di questa situazione perché intanto come regista come artista adoro le ossessioni beh perché è lì che vediamo magari cerchiamo di comportarci bene nella vita di fare delle cose giuste poi per un non nulla scattiamo perché ci viene toccata una corda interiore legata a un'ossessione quindi il mio personaggio si muove indossando momenti diversi della propria vita della propria relazione e indossando anche la personalità di diverse donne perché noi lo sappiamo che vi mandiamo al manicomio perché a un momento siamo allegre, contente, espansive e l'altro siamo nere, cupe oppure iniziamo una lite solo per poter provare a noi stesse che l'avete iniziata voi cioè siamo coscienti allora questo è il mio quarto progetto contro la violenza sulle donne e l'angle, il punto di vista che prendo questa volta è proprio un po' di neanche autoanalisi che è una parola pesante un po' di metterci allo specchio e vedere veramente chi siamo con le nostre contraddizioni con le nostre rabbie personali e con un sottofondo naturalmente di forza contro la violenza e l'abuso maschile però mostro anche delle parti dove siamo abusive anche noi una forma di riscatto, di una compensazione rispetto a che cosa? all'atteggiamento maschile intendo dire, no? no, direi una forma di onestà bisogna essere molto onesti e parlarsi veramente a cuore aperto quindi anche dire guarda io ho veramente come dicevi tu la mannoia ho certe giornate a amare, lascia stare sai qual è il problema? che spesso si è sempre più intolleranti verso se stessi ma anche verso gli altri ma il punto è quello che noi siamo intolleranti verso noi stesse abbiamo una fragilità che poi è la nostra meraviglia la fragilità e la frivolezza femminile sono delle doti noi stesse non sappiamo gestirle molto bene e il fatto di non saperle gestire ci porta a cercare a mettere il nostro potere il nostro centro all'esterno e lì le cose vanno male quindi come salvarsi? Eleonora invece tu ti tocca questa donna che insomma ha un po' dei pensieri criminogeni vorremmo dire così criminale sì sì allora io sono Maddalena, sono la protagonista di noi è un testo di Francesco Olivieri e questa donna per una vita ha subito, ha sopportato le botte, le angherie le mancanze di rispetto di quest'uomo e alla fine dice basta quindi lo ammazza lo ammazza però nello stesso tempo aspetta anche l'amante anche l'amante l'abbandona e questo che cos'è? è che significa che il male produce sempre male purtroppo quindi bisognerebbe un po' fermarlo il male arginarlo questo è il mio secondo progetto contro la violenza sulle donne e devo dire grazie ad Alessandra che mi ha chiamata e grazie a Sara che mi sta dirigendo bene e a questo punto ribadisco da domani quindi venerdì 30 e sabato 31 al Teatro dei Documenti Cuori Selvaggi un concept scritto ideato diciamo da Alessandra Vizzo che è anche una delle tre interpreti insieme a Sara Ercoli e a Eleonora Manara quindi i testi sono quelli selvaggi come lui mi vuole e noi giusto? volevo soltanto dire un'altra cosa a parte appunto che vogliamo ringraziare il Teatro dei Documenti ma anche chi collabora con noi e quindi volevo ringraziare la direttrice del Teatro dei Documenti Carla Ciaravolo che fa sempre delle scelte diciamo coraggiosissime volevo ringraziare Paolo Orlandelli che è meraviglioso che cura le luci ed è straordinario lui è un artista pure e quindi e soprattutto questa location meravigliosa e veniteci a vedere perché comunque facciamo riflettere ma facciamo anche ridere soprattutto e pensando e volevo dire che noi siamo qui il 30 e il 31 giovedì e venerdì alle ore 20 e 45 e poi vogliamo fare un saluto anche grossissimo al nostro ufficio stampa Rossana Tosto che ci sta dando proprio trattando come delle dive siamo quasi imbarazzate e vogliamo ringraziare anche te Andrea una macchina da guerra posso ringraziare un altro signore un altro signore che ci accompagnerà ritmicamente è il musicista Stefano Corrias perché io come regista come artista penso sempre che il ritmo sia la base fondamentale anche della vita in realtà se perdiamo il timing siamo fregati ragazzi dobbiamo avere sempre un sottofondo musicale che ci accompagna Eleonora Alessandra e Sara grazie mille e naturalmente buon teatro grazie ci vediamo a teatro grazie a teatro